Anche se so mascherare la freddezza dei miei smalti, e tu puoi stringermi la mano a sentire i miei caldi contro la tua vita, e mandai perfino arrivare a credere che i nostri stili di vita sono probabilmente comparabili, la verità è che io non sono lì. Si sembra che qualcosa sia davvero cambiato, non è come camminare su un filo spinato, a volte sembra che qualcuno mi abbia dannato, io ho scritto da una terza col sangue gelato.